Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Mr. Giuseppe Iachini. Prima di passare la parola al Presidente Luigi De Laurentiis, che ha sorpreso un po' tutti anticipando il suo arrivo a Bari quest'oggi, io ci tengo a dire che la conferenza sarà divisa in due parti. Nella prima parte prego i colleghi intervenuti di concentrarsi sulle domande strettamente legate al tema del giorno, quindi alla presentazione di Mr. Iachini a cui mi permetto di dare il mio sentito benvenuto. Nella seconda parte lasceremo spazio ad altri ed eventuali temi. Cedo la parola al Presidente Luigi De Laurentiis, prego. Buongiorno a tutti, io questa mattina all'alba proprio mi sono svegliato e ci tenevo a essere qui per la presentazione del nostro nuovo mister e anche per dare una presenza che manca da un po' di tempo ed era giusto comunque in un momento anche difficile metterci la faccia per l'ennesima volta come ho sempre fatto. Innanzitutto vorrei dare un benvenuto al nostro nuovo mister Beppe Iachini, quindi benvenuto a lui in questa bellissima città. Io vorrei partire un attimo da questi ultimi mesi che abbiamo vissuto. Non è un momento facile, non è un momento facile, è un momento difficoltoso per tante 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 situazioni che si sono andate a creare. Io voglio partire da quella finale perché è stata citata, ma secondo me non è stato compreso fino in fondo quanto perdere la Serie A a 100 secondi dal fischio finale abbia creato grandi difficoltà a una squadra di calcio, a dei ragazzi, a un allenatore che poi noi abbiamo confermato. Abbiamo confermato perché abbiamo creduto anche in quello che lui ci diceva, quindi che si sentiva di poter continuare un secondo anno, anche dopo aver preso una botta così difficile e non indifferente. Quindi abbiamo deciso di continuare insieme, ero rimasto scottato dalla decisione di cambiare Vivarini all'epoca, non volevo fare lo stesso errore, non volevo comperlo e quindi sono andato avanti. Insieme a Ciro abbiamo preso questa decisione. Dopodiché vorrei un attimo ritornare sul problema che Dira, Caprile, ci metto anche Foloruscio, anche se non era del Bari, ma anche qui per levare qualunque polemica, discussione. Io voglio farvi comprendere, ma voi fate calcio da tanti anni. Tre giocatori che hanno una stagione così roboante, così incredibile come hanno avuto questi signori, cosa ha creato? Ha creato una febbre da Serie A. Ha creato la possibilità per questi giovani giocatori di andare a giocare nella massima serie. Questo è un sogno per qualunque giocatore. E nessun giocatore, a meno che non abbia altri motivi, resterebbe in Serie B. Tra questi giocatori che ho citato c'è stato anche chi ha ricevuto offerte da Serie A, dal punto di vista economico, per restare nella categoria e non è voluto andare, non ha voluto accettare, perché la Serie A, signori, non si rifiuta. Quando si ha quell'età è impossibile. Quindi sarebbe stato impossibile poter trattenere questi tre giocatori, ma siccome qua si parla di aver smantellato, io non ho smantellato nulla. Io ho dovuto accogliere il desiderio di tre giocatori che erano importanti per questa squadra e che sono andati in Serie A. Non li potevo trattenere. Quindi siamo partiti senza tre giocatori importanti per questa società. Poi, senza creare polemica, se quella traversa di Foloruscio fosse entrata, il fatto che fosse stato in prestito dal Napoli, non credo che avrebbe creato problemi alla piazza, perché grazie magari a un'altra società vicina abbiamo avuto in dote un giocatore che ci avrebbe potuto portare in Serie A. Punto. Quindi siamo ripartiti senza tre giocatori fondamentali. Siamo affacciati sul mercato e è arrivato Menez, è arrivato Dio, è arrivato Aramu, è arrivata Campora. Non credo che siano nomi di secondo livello, sono nomi di giocatori importanti che sono stati nelle squadre in cui sono stati e siamo ripartiti. Certo, grandi difficoltà. Menez si rompe prima dell'inizio del campionato? Grave problema. Dio comincia a giocare, ma a fasi alterne, altro secondo problema. In corso di campionato ci ritroviamo a capire che il nostro allenatore probabilmente era ancora afflitto e con lui alcuni giocatori dall'aver perso quella finale. E nella confusione probabilmente abbiamo capito che dovevamo esonerare il nostro caro Mignani, che comunque risaluto e che stimo tantissimo. E in quel momento così difficile, in quel momento così difficile, cosa succede? Arriva un nuovo allenatore che sa di avere dei giocatori, si rompe Maiello, il nostro play fondamentale per l'equilibrio della squadra. Il nostro allenatore si ritrova già davanti a delle difficoltà, la nostra squadra davanti ad ulteriori difficoltà, perché senza Maiello, senza Dio, senza Menez sono problemi, sono problemi, non è facile. Allora qui nessuno cerca alibi, perché noi poi siamo continuati ad andare avanti. Siamo arrivati ad un mercato di gennaio dove ci si è detto, anzi qui mi avete chiesto ma lo aggredirete subito, troverete subito un giocatore dal primo giorno del mercato? Mi ha detto a gennaio non è facile trovarli subito, perché quelli che trovi subito non sono sempre degli affari. Ma siamo riusciti anche, lavorando di 31 dicembre, a portare a casa quattro giocatori, di cui tre vengono dalla Serie A, di cui tre vengono dalla Serie A, mantenendo anche dei giocatori, quindi tenendoci anche un giocatore fuori lista, quindi con veramente sacrifici importanti. Oltretutto, oltre questo, ulteriori difficoltà, quindi dover esonerare un altro allenatore. In mezzo a queste sfortune e in mezzo agli infortuni e ripeto poi dimentico che durante il mercato si infortuna Cuzzupias con un altro crociato, altro grave problema per noi. Attraverso queste difficoltà capiamo che dobbiamo esonerare l'allenatore. Abbiamo fatto alcune scelte sbagliate? Assolutamente sì. Abbiamo sbagliato qualche cosa? Sì, sono qua, ci metto la faccia perché tra gli errori siamo riusciti anche a trovare tante altre cose. Abbiamo fatto degli errori, questo lo ammetto, ma è anche umano. Non sono qui a nascondermi, sono qui a metterci la faccia. Nel momento di maggiore difficoltà, a riprova, a riprova che questa società, che questo presidente non molla mai e non mollerà mai, sono andato insieme a Ciro a trovare il profilo giusto, un allenatore top player, importante per questa categoria, per la Serie A, un allenatore con le palle, un allenatore serio fino in fondo, da un impatto economico non indifferente per questa società, è stato un investimento importante perché questa società ci crede e con un contratto con scadenza a giugno 2025. Quando ci siamo parlati con il mister, il mister è stato il primo vero grande entusiasta di questa operazione pronto a venire da subito, da subito ma con la programmaticità. È stato il primo, a volere la programmaticità, l'abbiamo sposata proprio perché qua si continuerà a costruire, è un percorso e noi non ci arrendiamo di fronte a nessuna delle difficoltà che vi ho appena elencato perché ci tenevo a fare questa analisi perché le difficoltà sono state tante, errori ne abbiamo fatti, ma anche tante sfortune e tanti infortuni. Fine. Voglio passare la parola al nostro Ciro Polito. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sono qui a presentare il secondo allenatore dell'anno, anche se il terzo perché Mignani è stato presentato praticamente due anni e mezzo fa. Un allenatore che non ha bisogno di tante presentazioni, è un allenatore che in questa categoria ha vinto tanto e su questo voglio ringraziare comunque la società per il sacrificio che tutti sappiamo, nel momento in cui si sceglie un tipo di allenatore come il mister Iachini si sa che da qui dopo non si può cambiare e si deve costruire anche il futuro. È stata una scelta pensata, strapensata, ragionata e per questo abbiamo anche allungato un giorno in più. Torno anche su mister Marino che come voi sapete io sono abituato a prendermi le responsabilità. È un allenatore che avevo scelto perché credevo, avendolo avuto, che avesse le caratteristiche di poter portare un calcio propositivo a Bari. In parte c'era usciti, in parte no, però alla fine non ero contento per tante situazioni che si erano create e insieme alla proprietà che c'è sempre un continuo dialogo abbiamo deciso di intervenire e di affidare la nostra guida a Beppe Iachini che oggi è qui. Passo la parola a lui e poi noi saremo a disposizione vostra per continuare la conferenza. A dopo. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Mi scuso per la voce perché già tre allenamenti sono bastati per poter perderla o avere un tono più basso e disturbato. Allora, nello stesso tempo volevo ringraziare il presidente Luigi De Laurentiis perché ha insistito tanto perché io potessi venire facendomi capire il progetto e lo stessa cosa vale per Ciro, il direttore, perché abbiamo parlato tanto perché volevamo costruire, volevamo cercare di avviare un nuovo percorso per il bene della società, della città, dei nostri tifosi e se io poi ho accettato con entusiasmo è per due motivi. Prima perché so di arrivare in una piazza che a mio avviso, per conoscenze, per averla affrontata, ma anche per averla vista, per averla vissuta, anche se da avversario, è una piazza che io reputo che possa programmare un percorso da Serie A e in questo senso non sto facendo promesse o sto dicendo cose, però sono convinto che con l'aiuto della città, dei nostri tifosi, della nostra gente possiamo riuscire a tracciare un percorso importante per poter lavorare e raggiungere certi risultati. Secondo motivo è stato quello che magari pochi lo sapranno, che mio nonno era nato a Bari. Strano eh? Però è così, la vita è venuta via da qui quando aveva, lui aveva 16 anni, 17 anni, si trasferì ad Ascoli, in breve la sua storia, che magari non interessa, non lo so, però penso che sia una cosa anche per me di cuore. E quindi, eh, avendo avuto lui, si è trasferito ad Ascoli, ha conosciuto mia nonna, si sono sposati, sono rimasti lì e sono nati altri figli, tanti, perché a quei tempi si faceva anche dieci figli, e quindi, eh, mia mamma, praticamente, eh, è la figlia di mio nonno, eh, e quindi io con mio nonno sono particolarmente legato, con questo, perché ho vissuto da piccolino tutta la mia crescita con lui, e quindi questo è stato un altro motivo che mi ha fatto eh accettare questo progetto, perché affettivamente mi sento anche legato, come sempre mi ricordo lui quando ero piccolino, insomma, che mi parlava e diceva Forza Bari, forza Bari, e quindi dopo un po' le cose ti rimangono dentro. E questo è quello che dovevo, volevo dire, eh, quindi, eh, mi auguro che tutto vada per il meglio, sono convinto che i nostri tifosi e voi anche della stampa ci sarete vicini, perché per raggiungere i risultati si vuole compattezza, fra tutte le unioni di intenti, lavorare insieme, perché i nostri avversari sono gli altri, quelli che hanno un'alta maglia, che non hanno il galletto qui nel petto, e quindi dovremo cercare di essere bravi, tanto bravi noi, insieme, per affrontare questa nuova strada, che sicuramente, il Presidente lo ha già anticipato prima, non sarà facile in questo primo periodo, però io sono un allenatore a cui piace la squadra che sia organizzata, che vada in campo con certezze, che i giocatori lavorino sul campo, quando vanno in campo, sanno quello che devono fare, nella fase di possesso, di non possesso, e quindi perché credo nel lavoro? Sono, mi dovete scusare, non sono un allenatore tanto che magari partecipa alle cose di stampa, di altro, ma mi ritengo un allenatore di campo, e quindi, eh, sono qui per lavorare individuale, sulla tattica individuale dei nostri calciatori, sulla tattica di reparto e collettiva di gioco di squadra, cercando di capire, più in fretta possibile, quale può essere il vestito migliore, perché questi ragazzi possano andare in campo e cercare di portare i punti e vincere. Questo è quello che conta di più. Grazie. Ricordiamo per chi si è aggiunto... Nell'ultimo momento la conferenza sarà divisa in due parti. Nella prima parte domande strettamente legate alla presentazione del mister, che poi andrà a lavorare e avremo spazio per altri temi. Apriamo le domande, prego Antonio Guido del Corriere dello Sport. Buongiorno Presidente, buongiorno Direttore, benvenuto Iachini, mi piacere di rivederla dopo Palermo. Continuano a chiamarla Sergente di Ferro, ma ormai dopo tante campagne, credo che sia un colonnello. Possiamo chiamarla colonnello Iachini, allora. Senta, lei ripartì da Palermo col 4-3-1-2, c'era Di Gennaro, Diegio le due punte, Di Bala ed Hernández, poi passò al 3-5-2. Pensa di fare così anche a Bari? Ma guardi, noi innanzitutto... Buongiorno, ciao. Stiamo lavorando da tre giorni, abbiamo cercato di inserire dei concetti su alcune situazioni tattiche con i ragazzi, cercando di capire prima possibile quali possono essere poi le cose che ci possono portare vantaggi sul campo a livello tattico. Vediamo, ci stiamo lavorando, delle idee ce l'ho, però è il campo quello che ci determina, ci dice la squadra cosa recepisse, come lo ha recepito e come vorrà portarlo avanti. In questo percorso, lei diceva che ero partito in una maniera, poi avevo cambiato. È vero anche che Di Bala aveva 18 anni, era un ragazzino che veniva dalla Sedebia Argentina, non lo conosceva nessuno e lo abbiamo perso, poi andando avanti dopo pochissimo abbiamo perso questo ragazzo per infortunio. Abbiamo dovuto cambiare qualcosina e quindi questo ci ha portato a dover cambiare poi atteggiamento tattico e abbiamo visto che poi portava frutti e abbiamo fatto una grandissima cavalcata facendo un record di punti di questa categoria con 20 vittorie fuori casa, vittorie in casa, insomma la miglior difesa, il miglior attacco, perché poi per vincere, quando è la fine del campionato, devi avere una delle miglior difese o la miglior difesa è uno dei migliori attacchi del campionato. Così si fanno i punti. Eccoci qua. Prego Enzo Tamborra, Telebari. Sì, buongiorno Iachini e benvenuto. La voce la perde solitamente oppure l'ha persa più del solito perché è dovuto alzarla in questi giorni magari per scuotere un gruppo che nell'ultimo due partite è apparso un po' in balia delle onde? No, no, io vivo il campo, l'allenamento con intensità perché con questo anche ardore, se vogliamo, nei confronti dei ragazzi, li ho visti un po' abbattuti, come è normale che siano, però nello stesso tempo questo atteggiamento mio sta a far capire ai ragazzi qui a Bari oggi, ieri in altre città o squadre, che è questo lo spirito con cui bisogna affrontare l'allenamento, con cui bisogna affrontare ogni giorno della settimana che porta alla partita. Quindi con questo entusiasmo, con questa verve, con questa determinazione, attenzione, perché certe cose vanno anche allenate durante la settimana. Non si può pensare che si arrivi alla domenica, la partita non si prepara alla domenica, si prepara già dal primo giorno della settimana di allenamento e alla domenica deve essere poi il resoconto di quello che si è fatto e quindi anche il cervello deve essere abituato a lavorare su certe intensità, certi ritmi, certi input che siano fisici, tattici, tecnici o tattiche individuali che arrivano dal lavoro mio e dello staff durante la settimana. Prego Michele Salomone. Buongiorno a tutti, buongiorno al Presidente, buongiorno a Polito, benvenuto ovviamente. Io le do soltanto il benvenuto anche perché lei è da qualche ora a Bari, potremmo dire, e quindi ancora deve conoscere tante cose, fare delle domande sul piano squisitamente tecnico secondo me ancora non ci può rispondere. L'unica cosa che le posso chiedere, ripercorrendo la sua luminosa carriera, è se c'è una situazione, che le ricordo un po' quella di Bari, sul piano tecnico, cioè di un intervento in corsa che ha delle attinenze. E credo che la scelta ricaduta su Iacchini sia stata la più felice che la società potesse fare, almeno nell'ambito di quel ventaglio di possibilità di cui si era parlato, perché credo che una persona come lei sia indispensabile in questo momento con la sua esperienza e col suo bagaglio. Ok, la ringrazio. Beh, simile no, perché è chiaro che mi è capitato vincere il campionato di B, è chiaro che magari dall'allenatore, magari avendo anche qui, avevo avuto qualche input da qualche squadra di Serie A, però poi il progetto Bari mi ha entusiasmato, mi ha dato convinzione di poter intraprendere questo, come dicevo prima, questo lavoro con il Presidente, con il Direttore Ciro, e quindi come mi è successo in passato, aspettavo un po', perché magari c'erano state delle trattative e quindi sono subentrato delle volte. Mi è capitato a Brescia, quando ho vinto il campionato, ma era ottobre. Mi è capitato poi alla Sampdoria, ma era novembre, diciamo fine novembre, e mi è capitato a Palermo che era a settembre. Alla fine abbiamo vinto il campionato, una volta, essendo arrivato a fine settembre, a Palermo per l'appunto, diciamo che ho avuto più tempo per poter lavorare con i ragazzi, con i calciatori, con la squadra. Ora, magari nelle altre due esperienze, è chiaro che non sono mai arrivato a febbraio, però abbiamo detto che questo è un percorso dove stiamo gettando le basi per puntare prima possibile a creare un progetto tattico, un'idea, una mentalità, un atteggiamento con cui andare in campo, una squadra equilibrata che sia efficace nella fase difensiva e offensiva e per questo dobbiamo lavorare insistentemente su questa crescita e su questi fattori. Poi, quanto tempo ci impiegheremo o riusciremo a mettere dentro, questo ce lo dirà il campo di volta in volta. È chiaro che i ragazzi sono contenti perché mi hanno dato grande disponibilità subito dal primo allenamento, li ho visti attenti, concentrati, disponibili, e questo è già un fattore molto importante. Noi lavoriamo, prenderemo da adesso in poi una partita per volta, cercheremo di preparare al meglio e cercheremo di fare più punti possibili e di far crescere questa squadra, questi ragazzi, come dicevo prima, sia nella loro individualità, nella tattica individuale, che nella tattica di reparto e collettiva di gioco di squadra. Spero di poterlo fare più in fretta possibile, però questo ce lo dirà solo il campo, quanto tempo impiegheremo, perché è questo. Prego Antonello Raimondo. Buongiorno. Mister, io correggo parzialmente l'amico e collega Michele Salomone. Secondo me lei è una soluzione top, al di là del ventaglio di possibilità che c'erano, perché io ho imparato che nel calcio contano gli almanacchi. Lei, secondo me, a parte che ha fatto bene anche in Serie A, in Serie B io la reputo un top player, nel senso che basta guardare il curriculum. Qualcuno potrà dire ma ha vinto con squadre forti. Io invece credo che vincere con squadre forti abbia difficoltà diverse, perché devi gestire spogliatoi diversi. Lei non lo sa, ma io un'altra l'ho sfiorata nell'anno della B col Piacenza, con una squadra di tantissimi giovani, che si sono valorizzati. Siamo arrivati quarti, dietro la Juventus, magari Napoli e Genova, insomma una squadra, e il Genova. Magari Juventus e Napoli sono state poi nel futuro squadre, che la Serie B non l'hanno mai fatta, ovviamente. E quelli sono campionati? Non ci fosse stata Nicola Juventus, per non dire Napoli o dire la squadra in quel momento, saremmo andati in Serie A anche in quella volta. E quelli sono campionati vinti comunque, nel senso che quando si costruisce. Comunque con grande difficoltà, però con la squadra giovanissima siamo arrivati dietro questi squadroni, che erano organizzati e preparati per vincere. Quindi quella forse è stata la promozione mancata, che mi ha dato fastidio. Però va bene. Ha vinto comunque tanto. Stavo per dirle, entrare in corsa chiaramente è un mondo diverso, perché c'è poco tempo, perché bisogna adattarsi, perché bisogna portare i risultati subito a casa. Il club ha fatto uno sforzo importantissimo e quindi le sente ovviamente anche questa responsabilità. Quando si entra in corsa, si può dire che la concretezza diventa, la solidità diventa il fattore più importante, al di là del fatto che in Italia si parla sempre molto del gioco, se non giochi bene sei diventato un pirla. Grazie. Allora, innanzitutto quando si subentra, c'è un modo di allenare. Quando si parte c'è simile, ma è un'altra cosa, ovviamente. Questo penso sia scontato. Nello stesso tempo devi capire la squadra, devi capire come stanno i ragazzi a livello di morale, a livello di fiducia, a livello di generale, insomma, fisico, tecnico, tattico e morale. Quindi bisogna andarci a lavorare sopra. Il tempo dobbiamo far veloce, più veloce possibile. Questo è chiaro. È quello che sto chiedendo ai ragazzi, di apprendere velocemente, ma nello stesso tempo poi conterrà il lavoro quotidiano sul campo giorno per giorno per far sì che la squadra diventi figlia del proprio allenatore. Dovunque sono andato, quando ho raggiunto i risultati, che sia in Serie B, quando abbiamo finito, in Serie A, quando magari abbiamo, sono subentrato da penultimo in classifica, terz'ultimo in classifica, siamo arrivati al nonno posto, decimo posto con una media da UEFA, è stato fatto, e sono arrivati questi risultati, quando le mie squadre sono state figlie mie. Essere figlia, una squadra figlia del proprio allenatore, vuol dire che ragiona come il proprio allenatore, come mentalità, atteggiamenti, organizzazione di gioco, perché è quello che voglio che la squadra abbia, equilibrio, organizzazione, tutti i fattori che portano a fare il risultato. Poi, è chiaro, ci sono momenti dove devi pensare a alcune cose, e momenti dove, è chiaro, andremo a mettere sempre dentro nuove cose, piano, 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 cercando di, in tre giorni non si può scalare una montagna, no? E arrivare alla vetta. Stiamo iniziando a scalare questa montagna, per far sì di rivedere il sole, scacciare le nubi, e far ritornare il sole qui a Bari, come meritano i tifosi, la piazza e la città. Grazie. Prego, Claudia Carbonara. Claudia Carbonara, Antena Sud, buongiorno e benvenuto nella nostra Bari. E allora, Iachini, le volevo dire, lei, fino a prima di venire qui, era a casa. Che tipo di chiamata aspettava, dopo tutta la sua esperienza? Se aspettava una chiamata per allenare una squadra giovane, se aspettava una chiamata ad una squadra che doveva invece risollevarsi, se aspettava invece, a prescindere dalla categoria, quale tipo di sfida per lei che ha visto un po' di tutto? E ha vissuto un po' di tutto? Allora, innanzitutto, sia lo scorso anno che quest'anno, mi sono capitate anche di andare, di essere stato chiamato anche da qualche squadra di Serie A, che doveva venire fuori, perché era quello che mi era capitato, e salvarsi. però non ho ritenuto che fosse giusto andare, perché non ci credevo appieno. Se non vedo tutte le componenti, società, direttori, squadra, programmazione, se non ci sono queste cose, e la programmazione è una cosa importante nel nostro lavoro, è chiaro che è organizzazione in tutto, è chiaro che preferisco non andare, che sia di Serie A, o che possa essere una squadra, anche in B, perché mi hanno chiamato, ma io ritengo che, ho sempre pensato, che se ci fosse stata la possibilità di andare in una piazza, che reputo giusta, come Bari, tipo Bari, è arrivata Bari, ok, è chiaro che l'avrei valutata, perché sono convinto che sono queste le piazze dove si possa costruire una squadra, un gruppo, un'organizzazione, una mentalità di squadra, un atteggiamento, anche con il tempo, per poter arrivare a far felici i tifosi, la nostra società, e chi segue il Bari è la nostra squadra. Grazie. Prego, Emiliano Cirillo. Buongiorno, saluto il Presidente, il Direttore, benvenuto al Mr. Iachini. Le chiedo se ha seguito in questi mesi il campionato di B e in particolare qualche partita del Bari e poi le chiedo che idea si è fatta di questa squadra, visto insomma lei sta qui da 3-4 giorni, se ha individuato pregi e difetti di questa squadra e soprattutto se è riuscito a testare il materiale umano che ha a disposizione. E poi, se può fare giusto un piccolo, una considerazione sulla qualità del campionato di Serie B di quest'anno, credo che non ci sia una squadra a mazza campionato, a parte il Parma che forse corre un po' di più rispetto a Cremonese come è Palermo. Quindi, voglio dire, i giochi sono apertissimi. Sì, poi ritorno anche al discorso che facevamo prima. A me, ho visto la squadra, io quando parlavamo con Ciro, a livello tecnico prima di arrivare nel frattempo per conoscersi anche, un po' tatticamente, avevo detto io, mi è capitato di vincere con il 4-3-3, mi è capitato di vincere con il 4-3-1-2, mi è capitato di vincere con la difesa a tre, però sono tutti con il trequartista o con il centrocampo a tre. Poi, nel calcio i numeri, i moduli sono tutti belli, tutti buoni, ma poi bisogna avere l'efficacia e contano le caratteristiche dei calciatori che hai a disposizione e mettere i tuoi calciatori nelle condizioni migliori per poter andare in campo, essere scuola vera, organizzata, che abbia organizzazione nella fase di possesso e di non possesso. E quindi, noi abbiamo iniziato qui, da qui, la risposta con i ragazzi sia nella tattica individuale che di reparto che di squadra nell'andare a mettere, secondo il mio punto di vista, sulle caratteristiche loro e dei nostri giocatori che abbiamo oggi, alcune soluzioni tattiche che possono portarci ad avere dei vantaggi. Poi questo non è detto che in futuro non avremo un'altra esigenza che verrà fuori con quello che è il riscontro del campo. Dopo tre giorni è chiaro, io mi auguro di vedere già delle cose domani, nella partita di domani, però non possiamo dirlo oggi, lo diremo dopo la partita. Oggi dobbiamo solo far sì che i ragazzi scendano in campo con delle certezze già, un'idea di poter scendere in campo in una certa maniera per quello che abbiamo fatto in queste tre giorni in tutte e due le fasi di gioco e in tutte le situazioni. Poi metterci dentro quegli atteggiamenti, quella passione, quella determinazione, quella grinta, quell'atteggiamento che serve per portare a casa le partite. Io sto insistendo su tutti questi aspetti, tattico, morale e ovviamente di organizzazione generale della squadra per far sì che loro scendano in campo con più nozioni possibili e queste portano poi certezze e sicurezze ai giocatori che vanno dentro. Prego, non fratellino. Sì, buongiorno mister, buongiorno a tutti. Mister, voglio andare sul concreto al di là dei concetti. Domani si gioca. Il Bari è stato pesantemente condizionato nel periodo recente da assenze come quella di Di Cesare, quella di Maiello per Durante, calciatori che non sono ancora al top della condizione come l'Ulic che non abbiamo ancora visto una volta da titolare. Può darci un'idea, può chiarire un po' la condizione di questi calciatori quando potrebbero essere pronti se qualcuno è già pronto per giocare? perché è evidente che averli o non averli cambia tanto la sostanza, la vigilia di due partite fondamentali per cambiare un po' volto a questo campionato. Sì, anche se detto la Serie B è un campionato che aspetta perché vincere in Serie A, vincere due e tre partite di fila diventa un po' più difficile perché è una categoria magari incontri una squadra poi incontri un'altra più alla tua portata poi incontri un'altra non è sempre può succedere ma è più difficile in B una volta che sei inquadrato che hai capitolo alla squadra che la squadra ricepisce vedi che i concetti ci sono è una cosa che possiamo fare c'è chi lo fa all'inizio questo piccolo filotto di partite c'è chi lo fa durante c'è chi lo fa in una seconda parte è chiaro che noi dobbiamo arrivare a cercare di poterlo fare questo attraverso il lavoro sul campo solo quello conosco io quella è la risposta è lì che porta il frutto del risultato il lavoro condizioni io sono abituato a fare alleno ovviamente quelli che i ragazzi che lo staff medico in questo momento quando subentro mi metto a disposizione poi faccio il punto della situazione alla fine dell'allenamento oggi parlerò con lo staff sanitario ci confronteremo se c'è qualche ragazzo che ha qualche problematica ovviamente faremo qualche colloquio anche individuale per capire poi se c'è la possibilità di utilizzarli i nomi che hai fatto se c'è possibilità di utilizzarli e se saranno della partita o meno e quindi poi valuteremo la formazione e il resto prego Leonardo Gaudio sì mister io vorrei calarmi un po' nell'attualità nella realtà di oggi io capisco le difficoltà iniziali perché sono prevedibili quello della ricerca delle basi per creare un progetto tecnico tattico e così via però in questo momento c'è bisogno di una sola cosa domani arriva il Lecco a Bari l'ultimo in classifica il Bari deve vincere ad ogni costo perché adesso più che le prestazioni la ricerca di tutti questi diciamo valori servono punti a Bari per allontanarsi quanto più possibile dalla zona diciamo vicina anche ai play out grazie allora sicuramente poi andiamo alla partita di domani prima abbiamo fatto un punto generale ora andiamo alla partita di domani sicuramente l'Ecco è una squadra non pensiamo che arrivi l'Ecco che sia una squadra facile io l'ho vista l'avevo vista già altre volte come seguo tutte le partite di serie A di serie B seguivo nel particolare ovviamente anche di serie B l'Ecco è una squadra che gioca insieme con questi allenatori già da un po' di mesi quindi ha raggiunto delle conoscenze a gennaio ha cambiato tanto sono arrivati tanti giocatori di buona qualità per la categoria e quindi è una squadra che è da prendere come dicevi con grande attenzione affrontarla con l'attenzione giusta l'organizzazione giusta con gli equilibri giusti con quella proprio col pensiero che andiamo a affrontare come se domani andiamo a giocare contro l'Inter faccio un esempio come atteggiamento ok con grande rispetto grande attenzione ai dettagli ai particolari chi parte chi subentra con i cinque cambi che ovviamente è molto più importante uguale a chi parte chi gioca perché qui con me non ci sono titolari non ci sono riserve io quando lavoro sul campo lavoro a coppie e voglio che tutti quando entrano in campo sanno quello che devono fare quindi mi aspetto con il calcio poi di oggi cinque cambi è chiaro che chi va dentro deve avere le conoscenze come chi parte chi arriva e nello studio della partita ci sta che l'allenatore prepari una prima partita una seconda partita una terza partita perché in ogni partita ci sono più partite bisogna sapere leggere interpretare e andarci a giocare dentro e i ragazzi devono abituarsi a farlo in fretta perché poi nella partita devono avere l'atteggiamento giusto quando si entra perché poi devono portare vantaggi ai compagni che sono già in campo prego le ultime due per il mister poi lo liberiamo prego Ruscito Paolo salve mister Paolo Ruscito Radio Selene allora intanto mi ha colpito il suo approccio a Bari perché si parla di un Beppe Iachini che è rimasto dalle sette alle nove di sera allo stadio con anche il pranzo a domicilio insomma magari esatto mi ha colpito molto no mister volevo chiederle è chiaro che non è entrato giustamente in questioni tattiche a proposito di certezze lei ha detto che i moduli li fanno le caratteristiche dei miei calciatori questa è una squadra che in questa stagione ha cambiato tanto è partita con il 4-3-1-2 ha provato altre soluzioni poi è passata al 3-4-1-2 anche al 3-5-2 al 4-3-3 ecco in questo momento dal punto di vista basico dobbiamo attenderci nella partita di domani la possibilità che si riparta dall'ultima soluzione tattica o evidentemente sta già studiando qualcosa di diverso e poi vorrei chiedere al direttore sportivo Ciro Polito sono stati 4 giorni difficili direttore sappiamo ovviamente grande attenzione da parte sua e della società per cercare di individuare la soluzione migliore siccome c'erano altre soluzioni cosa ha la spinta in particolare su Beppe Iachini e cosa invece ha la spinta a in qualche modo preferire questa soluzione ad altre che aveva già individuato nel senso abbiamo dato prima priorità al mister e dopo risponderemo io e il presidente alle vostre domande quindi dopo ti risponderò me la rifai così lui va a lavorare se no starà qui più tempo io sono di campo allora mi chiedevi questa cosa sulle caratteristiche dei nostri calciatori io penso che questa scuola possa interpretare posso interpretare alcuni moduli diversi moduli però è chiaro che poi conta anche l'efficacia di quello che posso andare a vedere sul campo io sono un allenatore elastico non rigido come ti ho detto prima ho vinto con il 4-3-3 ho vinto la Sandonia con il 4-3-1-2 ho vinto poi con la difesa a tre quindi questo fa capire che sono aperto a tutte le situazioni tattiche certo ho delle mie idee in testa però devo vedere poi anche i ragazzi come rispondono sotto questo aspetto e penso sempre che la squadra debba avere anche nel calcio di oggi moderno debba avere un'elasticità da dover passare da una situazione all'altra e quindi essere molto utile perché questo può portare anche dei vantaggi in campo nel momento in cui andiamo a affrontare delle squadre e andargli a creare anche delle difficoltà ovviamente anche sotto l'aspetto tattico e quindi dovremo essere pronti e bravi a saper andare a fare anche se sempre ho preferito prendere una strada e andare dietro vedremo abbiamo qualche ancora la partita anche di domani vediamo le risposte io cambio non lo so vediamo no devo parlare anche oggi a parte tutto devo sentire anche i ragazzi dopo qualche giorno di lavoro come hanno approcciato a queste cose che abbiamo preparato su cui ci siamo preparati e poi decido prego Davide Abrescio benvenuto mister per chiudere torno sulla trattativa perché ci risulta che sia stata chiusa in piena notte lei alle 7 era già in macchina per venire verso Bari lei ha voluto come diceva anche il presidente un anno e mezzo ha voluto che comunque questo fosse soltanto l'inizio di una programmazione qual è la sua idea proprio su se ci può raccontare la trattativa e qual è stata l'idea che poi ha spinto anche a pensare a un programma vincente con questa società e se poi le chiedo se la inorgoglisce anche il fatto di aver messo un po' tutti d'accordo a livello di piazza perché c'è stato grande entusiasmo anche il primo giorno c'erano 200 persone ad attenderla all'antistadio poi ovviamente ha preferito se lo sapevo portavamo la squadra non me l'aspettavo siamo rimasti lì avevamo delle cose da fare però ti rispondo in fretta sono bastate le parole progettuali che il presidente Luigi De Laurenti mi ha fatto e le parole del direttore Ciro che mi hanno fatto quello che mi hanno detto io ovviamente quando parli ho detto certo un progetto a Bari non mi dispiacerebbe perché poi è chiaro il sapere poter costruire ovviamente nel tempo ci dà possibilità di costruire un percorso giusto un percorso che ci possa portare a poi se il percorso è più corto per poter arrivare o è più lungo è chiaro che noi quello dovremo fare e quindi lavorare in questo senso insieme con unità di intenti con 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 quell'entusiasmo di sapere che siamo a Bari una piazza dove i tifosi sono entusiasti dove che sono convinto ci daranno una grande mano in questa parte nell'ultima parte della stagione ci saranno vicini e noi insieme a loro sul campo vogliamo regalarli insomma soddisfazioni maggiornomere soddisfazioni ma soprattutto un atteggiamento anche giusto di una squadra che vuole onorare i colori i nostri colori sempre e comunque in casa e fuori casa Prima di liberare il mister prego Marco Iusco Si è parlato ovviamente del gruppo ha chiesto unità al tifo alla stampa vorrei anche una battuta sul suo staff che ha voluto fortemente la società l'ha contentata in questa richiesta Sì noi andiamo insieme già da diversi anni con il mio staff e quindi anche perché ci conosciamo mi conoscono e quindi è chiaro sanno cosa voglio cosa pretendo e quindi uno sviluppa una cosa c'è il preparatore per la parte fisica ma poi ho trovato qui devo dire anche dei ragazzi bravi eccezionali sotto l'aspetto quindi ci siamo integrati già in pochissimi giorni si sta facendo gruppo ci si sta conoscendo quindi poi ovviamente ogni mister ha le sue ha le sue metodologie e quindi loro stanno cercando di capire prima possibile però con i miei ovviamente sono da anni che siamo insieme quindi ormai vanno a memoria e ringraziamo mister da ultimo volevo mandare un saluto un abbraccio ai miei colleghi che sono stati qui prima di me perché ho stima nei loro confronti e quindi li saluto e li mando un caro abbraccio vi faccio un buco al lupo per il futuro ok grazie ringraziamo e liberiamo mister Giuseppe Iachini prego bene partiamo con la seconda parte prego Antonio Guido Presidente che cosa la irrita di più dopo queste giornate così convulse cosa mi irrita di più no a me più che irritare come dispiace che si creino delle situazioni difficili che si creino sono delle situazioni che distraggano molto da quello che è la mission vera di questa società di questa squadra che è andare a vincere le partite e cercare veramente di arrivare al risultato più importante io sono arrivato qua sei stagioni fa questa è la sesta stagione e in questa sala c'era una polvere alta un metro degli uffici fatiscenti uno stadio che non era proprio diciamo al di fuori della sua bellezza architettonica verteva in delle condizioni abbastanza diciamo antiche impolverate in questi anni si è costruito tanto partendo da zero ma non è che voglio ricostruire quello perché insomma è un po' agli occhi di tutti oggi abbiamo una struttura che è invidiata da tanti una struttura che ha riaccolto la nazionale dopo tanti anni regalando un bellissimo spettacolo a tutta l'Italia una struttura che quest'anno ospiterà sei maxi concerti quindi anche dal punto di vista degli eventi ha creato tanto una struttura che ha raccolto fino a 58.200 spettatori record di sempre del San Nicola quindi a me dispiace più che tutto il rumore che si stia creando giusto sbagliato messaggi fraintesi parole fraintese sbagli errori quello che si vuole è più che in verità qui c'è un presidente c'è una società che ha sempre investito e che dalla lontana serie D è arrivato a sfiorare la serie A quest'anno è un anno più difficile non non mi arrendo di fronte a nessuna difficoltà e l'arrivo di questo allenatore ne è la riprova vera e io ho le spalle larghe per quanto poi non faccia piacere a nessuno ricevere insulti e fischi ma vorrei che il tifo si concentrasse almeno a sostenere questa grande squadra perché comunque è una squadra di ragazzi una squadra di ragazzi che hanno grandi qualità una squadra di ragazzi che ci vuole credere un mister appena arrivato che è al campo già dalle 7 del mattino e va via alle 20 e 30 che sta lavorando insieme al suo staff assiduamente dalla mattina alla sera a ogni singolo dettaglio c'è impegno c'è onestà e quindi ecco questo più che ciò che mi irrita è ciò che mi dispiace e quindi vorrei che almeno questa piazza possa sostenere questa squadra per portarla fino in fondo nel miglior modo possibile perché i nostri tifosi sono importanti i fatti degli ultimi giorni quest'area che si sta creando intorno non tanto alla squadra ma alla società potrebbero in qualche modo alimentare l'obiettivo di cedere il club prima della scadenza naturale del discorso della multiproprietà c'è il 2028 peraltro leggiamo di trattativo presunte trattative cosa c'è di vero e qual è la vostra posizione secondo me non può alimentare un bel nulla perché io amo questa piazza e anche attraverso le difficoltà continuerò ad amarla perché l'ho sposata ci ho investito tanto tempo non ho visto i miei figli per tanto tempo quando c'è stato anche il bisogno di ricostruire da zero quindi ho avuto meno tempo con la mia famiglia ho distratto quella che era una mia passione che è il cinema prima di vivere a Bari quattro mesi l'anno li passavo a Los Angeles quindi ho distratto tanto in un momento della mia carriera a 39 anni in cui si ha un'età dove l'ambizione è altissima e dove i piani personali che magari erano anche a livello internazionale potevano farmi andare anche in altre direzioni invece sono venuto qua e ho sposato fino in fondo quello che era la mia mission la mia avventura imprenditoriale nella mia indipendenza e che non mi si venga a dire perché poi voi siete i primi a conoscermi tutti voi io sono stato qua dall'inizio alla fine a scegliere ogni singolo mattone che è stato costruito siamo un gruppo? sì siamo una società che ha più aziende non ne ha solo due ha tante aziende ma ci sono due amministratori unici che in questo caso dal punto di vista sportivo gestiscono separatamente le proprie scelte possiamo ogni tanto consigliarci? può essere si fa qualche sinergia di pensiero? può essere ma le gestioni sono sempre state completamente indipendenti io ci tengo a dirlo perché tutto quel tempo che ho investito fino ad oggi l'ho investito di mio col mio sudore ed è questo il motivo per cui io mi sono dissociato immediatamente non credete che sia facile dissociarsi dal proprio genitore non è facile però l'ho dovuto fare poi evidentemente ha compreso di essere stato frainteso e si è scusato adesso al di fuori di quanto possa bastare o non bastare l'essersi scusato aver creato un problema aver creato una percezione sbagliata delle cose ma voi che siete qua dal primo giorno in cui sono arrivato sapete benissimo chi lavora a questo club da là alla z in ogni singola decisione di ogni singolo dipendente di ogni singolo lavoro di ogni singola cosa che vedete qua dentro in questa sala e questo nero su bianco sulle trattative per fortuna questa è una fortuna il Bari il Bari e lo dico da sempre è un franchise sportivo di prima classe sul mercato italiano di squadre importanti in vendita o che hanno la pil per essere vendute sono pochissime 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 il Bari può essere una di quelle quindi se un bel giorno arriverà un fondo di qualunque bandiera con la vera volontà di investire in questa squadra questa squadra magari un giorno verrà ceduta in delle mani importanti che investiranno ancora di più e renderanno questo stadio ancora più bello perché questo stadio sarà farà parte delle strutture italiche nazionali importanti che riceveranno 200 milioni di euro per essere rinnovate io l'ho visto il progetto di Renzo Piano un progetto bellissimo che potrà rendere questa struttura ancora più bella per tanti anni a venire quindi il futuro potrà essere eroseo nel frattempo nel frattempo per essere anche da PIL si è lavorato con grande onestà perché noi abbiamo pagato tutti dal primo all'ultimo questa società non ha debiti e per non avere debiti credetemi i sacrifici e il sudore sono tanti perché riuscire a non avere debiti avere i risultati sportivi e mi pare che dalla D non siamo rimasti in serie C ma siamo andati in serie B altissimi non è facile non è da tutti e non voglio autoincensirmi di quello che è stato fatto sono fatti come sono fatti l'investimento ulteriore che è stato fatto in un allenatore che vuole fatti concreto di categoria che è venuto qua perché evidentemente un allenatore molto umile questo mi piace tantissimo perché non ha voluto ancora parlare della squadra ma se è venuto è perché ha visto che c'è e ci sono degli elementi che gli permetteranno evidentemente di poter lottare fino alla fine io leggo di cordate c'è questo termine la cordata ma dove stanno dove stanno dove stanno prego Davide Lattanzi sì presidente io le faccio una domanda sul piano strettamente umano lei ha detto che continuerà ad amare Bari in ogni caso e sicuramente avete le spalle larghe per riuscirci però chi tra noi ha vissuto anni di fratture di distanza sa che quello che è successo in questi giorni o dopo la partita con la Reggiana purtroppo erano scene che erano diventate abituali e che purtroppo portano a poco io le chiedo che cosa si può fare proprio sul piano strettamente del rapporto per non incancrenire una situazione che poi non fa bene a nessuno e che bisogna cercare in qualche modo di risolvere avendo la volontà di venirsi un po' incontro gli uni con gli altri al di là di tutto quello che può succedere al Bari perché poi il Bari sappiamo che diciamo un'incognita normativa comunque esiste però al di là di tutto racconta il presente e non si può andare avanti senza un minimo di unione insomma che in questo momento è un po' dura da raggiungere ma io infatti se sono qui è perché ho sempre messo la faccia e non mi tiro indietro di fronte a nessuno ho sempre avuto quando c'è stato bisogno un dialogo con i tifosi ho sempre cercato di costruire una programmazione trasparente sempre mettendoci la faccia e quindi benvenga se si può recuperare un rapporto che è fondamentale io sono aperto a parlare ai tifosi a raccontargli esattamente come stanno le cose ma come sono qui oggi a raccontarvi quello che è stato fatto fino ad oggi per fortuna la trasparenza con cui è stato costruito questo percorso è agli atti è qua e io sono qua davanti a voi quindi sono a piena disposizione assolutamente perché per me è ripeto non è quello che dicevamo prima è un dispiacere avere questa quest'aria perché vorrei che la piazza si concentrasse davvero su quello che sono poi i momenti sportivi poi che i risultati quest'anno sono arrivati in maniera più difficile stravero verissimo però purtroppo non è che noi gioiamo quando finisce una partita e vengo insultato alla mia un conto è dalla curva che è lontana ma quando sono alla mia destra e alla mia sinistra e mio figlio e mia figlia sono scappati impauriti con mia moglie giù per le scale a sei minuti prima che finisse la partita non credete che sia piacevole ma io sono rimasto seduto anche al termine della partita continuando a prendermi degli insulti ma perché ho una responsabilità e non mi vado a nascondere e non vado a un certo punto mi hanno chiesto presidente vuole andare nello skybox magari si mette da una parte ho detto no io rimango seduto qua non è facile però siccome io ci metto la faccia e sono abituato a prendermi tutte le responsabilità non mi tiro indietro quindi se i tifosi volessero parlarmi io sono super disponibile a parlarci e a confrontarmi ma perché è importante perché noi siamo qua a lavorare dalla mattina alla sera quindi non ho nulla da nascondere e ho tanto da poter raccontare prego Michele Salopone salve presidente io vorrei ripartire noi non ci vediamo da sette mesi da quel 13 luglio non è vero ci siamo visti a Natale no io non ci vedo ah no è vero tu non sei venuto beh perché se l'invito mi arriva venti ore prima io magari qualche impegno ce l'ho se mi arrivassero un po' prima l'invito non diciamo le cose sbagliate come non diciamo le cose sbagliate no io sono stato invitato ci sono i whatsapp alle 15 a 35 potremmo vederci anche a Natale qualche un mese fa eh ma ce la voglio dire va bene va bene comunque non era in conferenza stampa quel giorno è stato un incontro conviviale con i giornalisti per cui voglio dire è vero ho parlato di tutto comunque benissimo bene allora comunque poi una domanda vorrei farla anche pulita se mi è consentito io vorrei ripartire lei rispondendo ad una mia domanda in modo molto preciso a proposito di Caprile che dira io capisco che potessero andare a giocare anche se magari molte volte ci sono sappiamo che i calciatori tutto sommato sono sensibili ai contratti magari trattenerli per cercare di costruire ma non è quello però le disse una cosa no perché io ho detto trattenerli ho specificato che davanti a cifre certo no no ho specificato che davanti a cifre da serie A non sono rimasti e non sono voluti restare comunque in questa categoria se no ricominciamo con questo gioco ok ok però lei disse una cosa disse che i proventi rivenienti dalla gestione di Chedira e di Caprile sarebbero stati reinvestiti sul mercato le chiedo se questo è stato fatto ma io ci faccio un altro discorso quando si arrivano calciatori con la formula del prestito accade che poi alla fine dell'anno magari vanno via non si possono neanche trattenere e quindi bisogna ripartire da capo allora io pensavo che qui abbiamo scoperto poi dalla relazione legata al bilancio quei 5,2 milioni o 5,1 milione no pensavo che dovessero essere appunto reinvestiti ed era forse non soltanto la mia aspettativa era quella di tutti non credo poi lei dirà ok attenzione bilancio giusto bene mi parla di quei 5,2 milioni ci levi il 50% che bisogna andare al Parma ci levi le commissioni degli agenti ci levi ci levi rimangono altre cifre credo che sia un annetto quei 5 milioni comunque va bene credo che siano già al netto almeno così va bene ma comunque non è così ve lo sto spiegando ok va bene ve lo sto spiegando comunque al di fuori di questo perché come se no poi passa il fatto come se uno non avesse investito perché Puskas secondo lei quanto è costato perché secondo lei l'arrivo di questo ulteriore mister quanto è costato lo sa che Mignani ancora al libro paga cosa paga cosa pagano è arrivato ora chiedo scusa il mister è arrivato ora allora al mercato di gennaio Puskas Callon e gli altri giocatori gli altri giocatori sono arrivati chiedo perdono lei ha parlato il 13 luglio come l'abbiamo pagati secondo voi guardi lei ha parlato il 13 luglio io immagino che questi soldi dovrebbero essere investiti nella sessione estiva ma infatti sono stati anche investiti nella sessione estiva ok va bene perché scusi siamo partiti senza giocatori come l'abbiamo come l'abbiamo e quelle carte lì a me risulta solo quello di Aschik 300.000 euro oppure mi sbaglio non abbiamo 14 giocatori di proprietà quindi no guardi nella campagna trasferimenti ma poi io faccio una domanda ma se uno con tutti i pressi ti vince un campionato come il Frosinone lei che mi dice lei che mi dice perché qual è qual è qua il contendere il contendere qua sa qual è perché noi ci mettiamo la faccia e se viene fatto bene il lavoro di scelta di giocatori e se il campionato arriva a dei punti per cui il nostro lavoro è stato ottimo come è stato l'anno scorso quest'anno abbiamo più difficoltà ma non abbiamo investito di meno non abbiamo investito di meno abbiamo investito quello che avevamo tutti i denari che avevamo e quest'anno anche con quelle plus valenze lo sa che il bilancio sarà di nuovo in rosso glielo predico perché già lo sappiamo sarà di nuovo in rosso perché questa società non va da spese non va da spese questa società è in rosso da quando sono arrivato e non è facile ogni volta ripianare i debiti non è facile ogni volta ripianare i debiti quindi quindi perché altrimenti fate passare i messaggi leggo i titoli ah dallo stadio 6 milioni eh ma che cosa vanno a coprire quei 6 milioni? beh veramente lei ha appena finito di dire i costi di una nave che costa 24 milioni di euro all'anno chiedo scusa ha appena finito di dire che il Bari è la società fra le più appetibili addirittura quindi voglio dire evidentemente si possono fare degli investimenti e credo che la filmauro questi investimenti insomma non credo che possa ma infatti ma infatti l'anno scorso mi pare che abbiamo sfilato la serie A poi che tutti gli anni riescano con la ciambella col buco in maniera perfetta insomma veramente saremmo dei geni incredibili quest'anno abbiamo commesso degli errori lo stiamo dicendo lo stiamo dicendo ma non fate passare dei messaggi che non sono veritieri quello lo contesto Apolito volevo soltanto chiedere una cosa mi corregg anzi correggimi perché noi ci diamo del tuo e quindi non ce l'ho ancora da correggimi se sbaglio Mignani va via perché tu ritieni che la squadra possa dare di più di quello che dà e quindi giustamente per dimostrare questo tuo teorema dopo nove giornate di campionato lo esogli posso capire invece dopo nove giornate posso capire ci spieghi anzi l'esorvero di Marino non perché ma c'è qualche altro motivo extra perché ti spiego tutto sommato veniva dal pareggio con il Cosenza in casa non avevamo giocato poi male male dal pareggio a Genova con la Sampdoria addirittura nei minuti di recupero abbiamo preso quel gol che ci ha tolto due punti dalla classifica poi abbiamo stravinto con la Terrania per 3-1 giocando una delle migliori partite poi siamo andati ad Ascoli 2-0 2-2 e poi c'è stata la partita con la Reggiana certamente che è stata sbagliata certamente che che cosa è accaduto perché ecco hai deciso di esonerare anche Marino che cosa è accaduto anche in relazione a quelle due assenze di quei due calciatori cioè dici un po' che cosa è accaduto guarda noi qua io col presidente siamo veramente una cosa solo in qualsiasi lettura io vivo il campo il presidente grazie a Dio lavora per mantenerci siccome io vedo tutti i giorni gli allenamenti a prescindere da quello che poi succede quando sono andato Mignani un allenatore che io sempre insieme al presidente ho scelto con grande scetticismo da parte di tutti siamo andati avanti due anni e mezzo dopo la quella fatidica finale dell'11 giugno abbiamo fatto passare il giusto tempo per ragionare un po' e il mio incontro con lui era per capire se avesse perché dopo non voleva avere il rimorso di cambio magari partire male e dire caspita è meglio partire con Mignani io ho una linea se uno se la sente andiamo in guerra e quindi siamo partiti insieme però poi ho visto che non era lo stesso Mignani che mi aveva che avevo scelto gli anni prima e che mi aveva portato lui insieme a tutti noi a quasi un traguardo storico era un po' cambiato aveva un po' di pressione un ambiente anche all'interno non proprio sereno e quindi vedevo la squadra un po' calare e lì decidemmo insieme al Presidente sempre di cambiare dopo lì visto che era un momento un po' che la squadra aveva acquisito una mentalità remissiva se troppo sempre lì ad aspettare l'avversario conoscendo Marino e non mi tiro indietro avevo pensato che Marino siccome l'ha avuto due anni avesse quelle caratteristiche di alzare un po' i baricendo e creare un calcio propositivo e dico la verità è arrivato anche con tanto entusiasmo e in parte ci è riuscito perché Marino è stato cambiato però non è che Marino ci ha portato diciamo all'ultimo posto ha mantenuto un po' quell'iter che avevamo prima che a noi non bastasse è vero c'è stato un attimo sembrava che avessimo ripreso un po' di di strada con un'idea tattica e poi cadevamo sempre nei soliti diciamo problemi e sono sincero gli ultimi 20 giorni che io ho viaggiato tanto per il mercato ogni volta che stavo qui vedevo una squadra che andasse a a scemare soprattutto negli allenamenti e poi vedevo che le ultime partite partendo anche ad Ascoli che vincevamo 2 a 0 abbiamo fatto i primi 30 minuti 35 e poi la squadra andasse a spegnere continuando con la Reggiana continuando a Palermo non è stato Palermo che ha fatto fare le sonore a Marino non è stata la partita in sé per sé Mobice la squadra non combatteva più la squadra perché perché in allenamento non ci fosse più quella carica ok e il venerdì sera insieme al Presidente dopo la partita invituti tante situazioni ho detto prendiamoci una notte sono un po' in pensiero perché è giusto che qui non si fa le cose per divertirsi lo so che cambiare allenatore è pesante ma io mi sono sempre preso le responsabilità compreso quella di Marino che è una scelta fatta con delle idee e che comunque lo ringrazio perché il suo ha dato però forse avevo bisogno di altro e quindi ci siamo attivati in quei tre giorni a trovare un allenatore che avesse delle caratteristiche per questo gruppo ok e per questo io insieme al Presidente abbiamo deciso di cambiare il secondo allenatore ma non è né la prima né l'ultima volta che succede nel calcio non sembra che sia successo una cosa anormale ma che in Serie A è successa adesso quando io sono andato all'ascoli erettrezza allenatore è uno quando pensa di avere del materiale e vede che le cose non vanno ma devono andare sia una società che non si tira indietro perché fermarsi davanti al primo ostacolo questo è buongiorno sono da questa parte comincio col Presidente poi se posso fare una domanda anche al Direttore Sportivo Presidente in parte lei ha ragione c'era un po' di polvere qui però la maggior parte dei lavori l'ha fatto il Comune di Bari con tanto di video dell'assessore Petruzzelli e del Sindaco De Caro quindi ringraziamo soprattutto loro se mi consente io le invito a rispondermi sugli striscioni che ci sono stati per tutta la città perché lei sta parlando ai giornalisti dicendo voi eravate presenti ecco c'è una città contro di lei contro la proprietà dei Laurentiis se ne sarà sicuramente accorto svegliandosi stamattina avrà visto anche quelle o qualche foto ecco le chiedo cosa come sta vivendo questa rottura con la città di Bari anche perché il Sindaco De Caro se l'è un po' presa mi sa per quello che ha dichiarato suo padre e secondo me il suo padre chiedo scusa per l'inciso non si è proprio scusato suo padre ha detto che gli dispiace di essere stato frainteso le scuse io almeno io non le ho lette da nessuna parte le chiedo se si è sentito con il Sindaco e se questo strappo è stato ricucito poi magari faccio la domanda a Polito sì beh la ringrazio per ricordarmi che cosa ha investito il Comune però forse lei non sa cosa ho investito io nella struttura dello stadio non credo perché non credo che lei faccia parte della SSC Bari però se lei vede le lounge se lei vede gli uffici se lei vede questa sala stampa se lei vede anche l'abuso edilizio che è stato abbattuto dove sono sorti degli skybox quindi anche internazionalizzando questo io non so nulla però diciamo ecco per sicuramente negli anni passato io non lo conosco io posso parlare per quello che sono diciamo da quando sono arrivato ma ecco abbiamo sempre ringraziato il Sindaco il Comune per quanto ha fatto e per tutti i denari che ha versato in questa struttura dove poi grazie ai grandi investimenti anche nostri si è riempita e ha ridato grande lustro alla città comunque detto questo ovviamente se lei non l'ha inteso come scuse diciamo quelle che ha letto nelle dichiarazioni di mio padre gliele porgo io diciamo da parte sua evidentemente perché diciamo si è reso conto di aver detto qualcosa di sbagliato in maniera che è stato frainteso e quindi in verità voleva scusarsi se poi non sono arrivate come scuse sono delle scuse per quanto riguarda il Sindaco De Caro noi ci sentiamo continuamente nel pieno rispetto del ruolo di ognuno e ci siamo sempre sostenuti a vicenda quindi io comprendo la sua posizione mi auguro che poi diciamo siccome mi si chiedeva sulla rottura con questa città è ovvio che mi dispiace l'ho detto anche prima io amo questa città amo i baresi e poi lavoro dalla mattina alla sera per i tifosi e per questa società che rappresenta la città quindi come può non dispiacermi assolutamente sì sono ancora intervenuti lasciamo la parola a Luca Guerra grazie sì salve buongiorno una domanda per il direttore Polito buon pomeriggio anche Presidente lei ha detto cambiare è pesante cambiare allenatore è sempre pesante per la prima volta cambio allenatore anche con il mercato chiuso quindi le chiedo anche un po' quant'è stato delicato ragionare su un cambio di allenatore dopo che a gennaio avete fatto il mercato per Marino e poi torno sulla domanda del collega Riuscito che era rimasta diciamo in sospeso se ci racconta anche il processo decisionale che ha portato alla valutazione dei profili e all'approdo a Iachini rispondo un attimo alla tua Luca poi magari Paolo me la ripone la domanda ma guarda non è che uno nel mercato non si muove e nel momento in cui si è mosso non possa cambiare quello che ti posso dire che le mie abitudini nel costruire le squadre sono sempre con dei giocatori polivalenti infatti noi costruendo la difesa a quattro e tre centrocampisti e davanti anche con Mignani se non vi vi ricordate bene l'uno o due di Mignani c'erano anche dei giocatori che avessero delle caratteristiche un po' più esterne tipo Morachioli allora comunque avevamo Galano anche Botta poteva giocare esterno interno quindi nei momenti in cui costruisci delle squadre con delle caratteristiche con gli attaccanti sia esterni che interni con i centrocampisti a tre con le mezzali con dei play con i terzini difensori centrali che se ne cassa giocare a tre possono tranquillamente giocare cambiare un allenatore non è un problema ma il modulo lo fa l'allenatore ma quando hai dei giocatori adatti se Iachini non è l'ultimo arrivato ha accettato questo progetto è perché lui ci siamo parlati a lungo ha visto che ci sono dei giocatori adatti anche a un tipo di calcio che vuole lui ma poi in tutte le cose ricordiamoci che i moduli la fanno la voglia la fame la cattivera di voler vincere i duelli poi come ti metti in campo ogni allenatore ha le sue ma questa squadra può giocare in tanti modi prego Claudia Bruno sì Claudia Bruno ti è Gire Puglia due domande molto veloci abbiamo parlato molto della contestazione lei si ha detto più dispiaciuto che è irritato ci abbiamo girato molto intorno però vorrei chiederle umanamente se si aspettava più credito dai tifosi e poi le voglio chiedere se a questo punto l'obiettivo stagionale resta quello dei playoff ma aspettarsi più credito mi faceva piacere quando l'arrivo di un allenatore importante avesse regalato comunque piacere e voglia di tornare a tifare per la squadra ancora più di prima perché comunque al di fuori di tutto sono venuti allo stadio hanno sempre sostenuto la squadra anzi un elogio comunque a tutti coloro che vanno in trasferta perché a volte le città stesse devono calmerare l'arrivo dei nostri tifosi biancorossi perché magari sono troppi e questo voglio dire è sempre come dire una bellissima rappresentanza che questa città ha nei confronti della squadra e che quindi la segue in trasferta io non sono qua per baciare il sedere di nessuno perché non è proprio una mia prerogativa ma amo i tifosi è normale perché fanno parte del cuore di questa città quando sentiamo l'inno li senti cantare e sfiderei chiunque a non avere la pelle d'oca però ripeto non sono qua alla paracula dove devo recuperare un rapporto a me dispiace è ovvio mi auguravo di come dire regalare alla piazza l'arrivo di un grande mister e di regalare alla piazza un po' di entusiasmo in più poi è ovvio che certe esternazioni oggi viviamo in un mondo in cui per una frase sbagliata e lo vediamo attraverso tante purtroppo azioni che accadono in televisione con un'ospitata sbagliata con altre diciamo anche cose ridicole quindi nel momento in cui si pesta un piede sbagliato a volte si può creare veramente un grave problema quando in verità è stato un frantendimento quindi mi dispiace e mi auguro che i risultati porteranno a attifare sempre di più questa squadra e basta c'era l'obiettivo stagionale certo per noi l'obiettivo stagionale deve essere quello di arrivare ai playoff in assoluto è un momento difficile anche per noi quando con Ciro ci siamo parlati è stato un momento difficile nel momento in cui ci siamo sentiti venerdì notte venerdì scorso fino alle due del mattino il sabato fino a ore tarde della notte cioè tutti i giorni perché dovevamo trovare un profilo un profilo giusto non si poteva sbagliare perché con la situazione che è in atto noi dobbiamo preservarci e puntare più in alto possibile quindi sono state giornate molto intense e credo che questa possa essere diciamo la scelta migliore però ecco in quel caso devo dire che il restare uniti quindi il presidente e il suo direttore sportivo che si sono uniti a lavorare assiduamente ha fatto sì che venisse un profilo così importante che si convincesse a venire a bracciare questa operazione così grossa prego faccio buongiorno innanzitutto faccio una domanda al direttore che saluto uno dei suoi concetti è quello della fame calcistica non le più volte ha detto io voglio giocatori che abbiano fame le chiedo il suo bar ce l'ha la fame calcistica i suoi giocatori ce l'hanno e come si ricostruisce adesso con l'allenatore Claudio hai ragione è un mio motto ad oggi ti devo dire che non c'è stata questa fame calcistica perché determinate partite non sono state proprio lottate loro lo sanno si sentono in debito con la città a ritrovarsi a volte basta una scintilla per questo Iachini ha le caratteristiche per poter tirare fuori quello che serve poi quello che farà in allenamento e quello che ti troverà in gara prego Massimo Longo sì direttore buongiorno innanzitutto dove crede di aver sbagliato quest'anno ma guarda se la squadra è al centro classifica che è nel mezzo tra play out e play off qualche errore c'è stato perché chi non opera non sbaglia forse nelle scelte di determinati giocatori con un po' di nome però dobbiamo pure dire che tante scelte sono state anche un po' dettate da non abbiamo mai parlato di sfortuna non mi sono mai lamentato però alla prima partita perdere un giocatore come Menezze come Diob che l'abbiamo avuto solo per tre gare ti sposta un po' gli equilibri poi la rottura di Menezze al 20 di agosto devi intervenire per prendere un giocatore di quel tipo lì più o meno giocatore di qualità che allora con Mignani una seconda punta con caratteristiche tecniche la scelta è caduta su Aramu che era un giocatore che avesse le caratteristiche purtroppo quando un giocatore non rende la coppa è mia che l'ho scelta però non è che si può fare tanto perché poi dopo scegliere il giocatore bisogna anche portarlo qui in un ambiente che era diventato un po' pesante il giocatore magari non è manco arrivato fisicamente al top e questo ha pagato cioè non so dirti c'è stato un episodio io penso che ho visto anche in passato altre squadre quando perdi una finale così o viceversa le annate dopo sono tutte difficili anzi anzi anche peggio quindi io dico siccome siamo lì in mezzo qualche cosa buona l'abbiamo pure fatta e qualche cosa sbagliata l'abbiamo fatta perché comunque se Marino non ha portato delle migliorie vuol dire che Marino è stata una scelta sbagliata e che io ho fatto se sempre comunque in accordo con il presidente ma le scelte comunque tecniche le faccio io quindi tutte le responsabilità sono mie credo che in due anni e mezzo ho fatto più di buone che quelle cattive però oggi siamo qui a prenderci delle critiche ma è giusto che sia così ma noi andiamo avanti per la nostra strada io insieme al presidente sono sempre presente ad ogni situazione ad ogni momento per dare dimostrazione di attaccamento più di questo non si può fare quando arriviamo a fine campionato tiriamo una bella linea del mio percorso e vediamo dove abbiamo sbagliato di più o meno e poi valuteremo e ragioneremo tutti insieme grazie a te prego Lorusso sì buongiorno presidente buongiorno direttore è una domanda per il presidente allora lei ha parlato a dicembre quando ci siamo visti ha detto l'ha ribadito anche oggi che abbiamo commesso degli errori allora le chiedo qual è l'errore che reputa comunque più grosso comunque col seno del poi una cosa che non avrebbe fatto e se negli ultimi giorni alla luce degli ultimi avvenimenti accaduti ovviamente se per qualche attimo le è venuta l'idea o meglio il pentirsi di aver accettato la scelta di che fece come dire di accettare il Bari ecco di accettare di essere presidente del Bari se si è pentito per un attimo soprattutto in questi giorni se le è venuto questo pensiero ma diciamo che non si può cioè l'errore l'errore più grave ma col seno di poi voglio dire che però più grave cioè forse confermare l'allenatore dell'anno scorso perché voglio dire non perché cioè non abbiamo capito forse fino in fondo che quella aver perso quella finale avesse comunque veramente attanagliato la testa del nostro allenatore ma anche di un gruppo di giocatori che sono rimasti e che comunque hanno messo un po' a perdere a lasciarsi dietro le spalle quella delusione quindi se uno diciamo come dire siccome l'allenatore è una parte fondamentale è assolutamente probabilmente forse è stato l'errore più grave col senno di poi perché poi con un allenatore diverso con punti inferiori anche di quattro punti saremmo stati qui a dire o qualcuno avrebbe detto ma forse era meglio tenere però ci sta e questi confronti continui con noi stessi che ci dobbiamo fare sono quindi ecco per rispondere alla prima domanda sulla seconda domanda era se diciamo mi pento di essere venuto a Bari per quello che è successo mai non sarei qua oggi io questa mattina e questi giorni diciamo sono stati poco sereni questa mattina mi sono messo in macchina all'alba e sono venuto di gran carriera con molta energia sapendo di dover affrontare delle difficoltà ma come ho detto prima ci ho dedicato veramente tanto tempo sei anni di vita non sono pochi anche anche rinunciando ad altre diciamo potenziali carriere dettate da altre passioni e quindi sinceramente non può bastare un problema che è abbastanza grave per farmi pensare o tornare indietro volevo fare una domanda al presidente guardando un po' il medio periodo piuttosto che il breve lei quest'anno ha ribadito l'obiettivo dei playoff però che conosce qual è l'ambizione di questa piazza ed è quella di raggiungere il massimo traguardo parlando nel colloquio con i giornalisti lei ha ricordato che chiaramente la sua proprietà non ha la possibilità di fare dei rossi in bilancio che hanno altre società in questa serie B però viviamo un campionato dove abbiamo visto ci sono squadre che hanno investito 4-6 milioni per il singolo cartellino nella sua mente qual è l'idea per conciliare la sostenibilità finanziaria che è una bandiera diciamo della vostra proprietà e l'ambizione legittima di questa piazza a voler arrivare il più fretta possibile all'obiettivo Serie A è saper fare il nostro mestiere nel miglior modo possibile in un mestiere in cui tra cercare di restare sostenibili il più possibile perché altrimenti non saremmo in rosso da 6 anni e ottenere i risultati sportivi è lì dove si riesce ad essere bravi in questo mestiere allora permettetemi comunque a priori di avere come proprio modus operandi della nostra azienda questo questo è il nostro approccio perché non siamo persone che costruiscono debiti non è proprio parte della nostra cultura quindi permettetemi di prima di tutto cercare di avere l'ambizione di far quadrare un po' tutti i conti i risultati sportivi i risultati finanziari un po' tutto certo è una partita difficile però ecco otto squadre di Serie B stanno investendo quasi quanto anzi quanto anche la Serie A o di più poi se dietro c'è un fondo del Man City arabo un fondo un fondo come si chiamano quelli del Como indonesiano miliardi e contro miliardi io non posso permettermi di avere un buco da 90 milioni in un anno purtroppo cioè purtroppo signori è così però veniamo da una cultura calcistica che ci permette non sempre perché si commettono anche degli errori di scegliere le persone giuste i calciatori giusti gli allenatori giusti per cercare di puntare in alto questa è la garanzia che noi possiamo dare al di fuori della garanzia di essere sul pezzo lavoratori persone private imprenditori privati che investono pagatori zero debiti insomma cioè voglio dire comunque anche queste sono delle garanzie se un giorno qui arriverà il fondo che vi porterà in Champions League a suon di miliardi io sarò felicissimo noi proveremo a portarvi nella massima categoria gestendo tutto quello che noi riusciremo a gestire con gli investimenti giusti non sono investimenti da ultima della classe perché sono investimenti importanti cercando di ambire al massimo risultato punto siamo vicini alla chiusura prego di essere veramente brevi sì una premessa mi sta un po' spiacendo nella elencazione un po' della stagione un po' il quadro che diciamo viene riservato a mister Mignani nel senso che io credo che lo sviluppo della stagione abbia un po' dimostrato forse che Mignani al di là degli errori che sicuramente avrà commesso ci fossero delle difficoltà a prescindere avete giustamente citato una serie di alibi come l'infortunio di Menesti di Dio ci aggiungo qualche giocatore non in condizione ci aggiungo a Ramo che non è esploso su tutte valutazioni che hanno riguardato la gestione di Mignani che è vero che non è riuscito a fare il Bari dell'anno scorso ma il Bari non aveva perso la caratteristica importante anche nelle giornate migliori di non perdere detto ciò Mignani non ha bisogno di avere un avvocato però secondo me lo sviluppo della stagione a mio avviso un attimino evidentemente c'era qualche altro problema però io ho sentito le vostre il presidente ha detto che il mister non era quello dell'anno scorso lei Polito ha detto che era un po' scioccato ancora dalla promozione lei ha detto che Mignani non era quello dell'anno scorso ma secondo me l'errore è stato nostro però non è stato del mister Mignani io il mister Mignani gli voglio un gran bene una persona che ha dimostrato tanto ed è un grande professionista ci tengo a dirlo perché altrimenti uno sembra che le colpe siano state del mister Mignani no le colpe sono state nostre mie e di Ciro perché insieme abbiamo deciso e io in primis che non volevo commettere l'errore di pentirmi poi come è successo con Bivarini alla prima sconfitta in finale della Serie C e quindi questo giustamente ma anche per dare meriti a chi in due anni è riuscito a raggiungere vette importanti quindi l'errore è stato nostro io appresso chi sceglie no no era solo per ribadire la domanda era secca lei ha detto giustamente più volte questo ovviamente è vero io oggi non pensavo di trovarla qui il fatto che lei ci mette la faccia per esempio sulla questione che ha tirato fuori il collega Salomone su che dire Caprile le plus valenze sono a letto dico nel secolo della comunicazione è così difficile dire anche perché ognuno se non ruba non deve vergognarsi di nulla dire quanto perché la gente ci tiene noi abbiamo scritto in questi giorni che voi avete fatto uno sforzo economico io ho parlato di un milione e mezzo forse sono stato largo dico è così difficile dire abbiamo venduti a 10 milioni è stato stretto ma noi però se ne me lo dice lo scrivo ma per polisi aziendale cioè non è che dobbiamo no fra un anno lo sapremo poi sono pubblici ma benissimo poi se di quei dobbiamo aspettare il bilancio no dico se se di quei soldi in più li chiamiamo in più no chiamiamoli in più li ho spesi la gestione mi faccia parlare scusi cioè se io lo spesi al 15 di agosto a il 30 di ottobre perché entra un altro allenatore con un altro staff premetto che gli altri che sono stati mandati a casa sono pagati fino a fine anno hanno contratti e quant'altro se poi una parte di quei soldi in più lo spesi a gennaio per il mercato di gennaio perché io devo giustificare quando li spendo come li spendo cioè signori parliamo solo di calcio e di risultati poi se vogliamo parlare dei bilanci i bilanci poi sono pubblici infatti ma lei ha detto che il bilancio è passivo quindi lei diventa spesso di più quindi non è che dire quanto ha venduto che dire vuol dire che lei se li ha rubati i soldi è per un fatto la gente è per fatto di chiarezza ho capito ho capito ma non è che siamo cioè stiamo facendo un'analisi per dire cosa quella è contente perché è come parlare di scusi lei ha detto che il Bari ha fatto uno sforzo per Iachini quindi quando lo sforzo è fatto per spendere tutti ne danno atto lei il Bari ha fatto per me una grande mossa uno sforzo di questi tempi pesantissimo io sono onesto benissimo la gente vorrebbe sapere se voi dite di no io non è che la posso costringere su cose che saranno che sono pubbliche solo questo ma come vede tante anche altre squadre di serie A di serie massime non è che stanno lì ad elencare ecco questo è il listino cioè non stiamo al ristorante ma il tifo comunque io la domanda devo fare è un investimento importante punto fine la ringrazio è una polisi aziendale nostra di essere molto più concisi cortesemente altrimenti non riusciamo a soddisfare le richieste di tutti Presidente le polemiche che sono seguite alle dichiarazioni di suo padre è una mia deduzione potrebbero essere figlie delle aspettative che si sono create all'inizio quando i tifosi pensavano che i De Laurenti se la filmarono avrebbero venduto il Napoli per prendere il Bari poi al direttore brevemente negli ultimi due anni e mezzo hai compiuto delle operazioni che credo pochi direttori sportivi riescono a portarli a termine in Italia quella di riuscire per la gioia anche del Presidente di liberarsi di tanti giocatori in esubero quest'anno però qualcosa si è inceppato che cosa? Allora quindi in merito diciamo principalmente al fatto che mi rivedo una domanda perché se no volevo capire se tutta questa polemica contestazione eccetera seguita la dichiarazione di suo padre potrebbero essere figlie di alcune aspettazioni che i tifosi non solo i tifosi si erano fatti diciamo all'inizio quando avessero il fai nel 2018 sì sì ho capito ho capito che dando via sì 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 certo chiaro chiaro ma diciamo che come dire che un giorno no potesse si potesse vendere il Napoli no e quindi poi tenersi un'altra squadra ma sono tutte possibilità che sarebbero potute avvenire o avverranno sono dinamiche che oggi non potrei sapere quindi vuol dire è lecito poter pensare magari che un giorno uno si è stufato no più che si è stufato cioè come dire trova un'occasione per la vita veramente concreta e uno giustamente se è riuscito ad avere diciamo nel gruppo queste due squadre se ne dovesse andare via una uno continua a lavorare sull'altra in maniera diciamo semplice e magari trovando ancora più entusiasmo e concentrandosi solo su una squadra quello è probabile però chi può dirlo cioè nel senso sono dinamiche che in un gruppo dove dove ci sono tante aziende non potrei predirle mai ecco appunto questo questo non saprei però sì magari sono aspettative ma sicuramente ci sono tante aspettative o comunque come dire il nostro nome di famiglia ha sempre aspettative molto alte quindi le pressioni sono tante però ripeto cioè quello che noi abbiamo potuto investire fino ad oggi l'abbiamo veramente fatto fino all'ultimo anzi andando oltre quelle che erano le nostre capacità proprio per quello che il gruppo è precisato per tutte le operazioni le difficoltà nelle uscite giusto ok no nel passato ad oggi oggi cosa si è inceppato ma perché cosa abbiamo in esubero Mattia Ramo inceppato parlavi di queste tanti giocatori ma a Campora allora alla luce del sole cioè voi vedete per questo è stata una stagione è una stagione un po' particolare tra le difficoltà devi cercare di trarre il massimo nel primo mercato di gennaio i primi giorni di gennaio si rompe Kuzupias che è un under sapete no avendo Kuzupias magari sacrificavo un over nel momento in cui si rompe Kuzupias e devo dare via un giocatore come a Campora che fino ad oggi ha reso meno di quello che poteva rendere per prendere uno qualsiasi ma perché mi devo dare via a Campora che lo voleva il Cosenza e poi io andare a cercare magari un giocatore che da un'altra parte aveva reso meno lo stesso oppure avesse giocato poco e fisicamente non stava bene no io mi tengo a Campora perché tante volte i giocatori magari fanno il primo percorso non buono sotto le aspettative poi le caratteristiche sono una delle qualità è pur giusto che uno si prende un anno di tempo poi a fine anno tiriamo la lina se un giocatore abbia fatto bene o abbia fatto male io a Campora a darlo via non ci tenevo Moragiole è stato richiesto ma ti dico la verità preferivo avere qualche giocatore in più davanti è un giocatore che ho preso da Renate l'anno scorso ci ha dato delle grosse soddisfazioni quest'anno è una stagione un po' più difficile è sempre più difficile anche emergere dei giovani quindi ho preferito tenermelo con me niente di particolare Aramo è rimasto fuori lista e questo è più un problema di società anzi che il presidente dà la possibilità di pagarlo però mi ero anche inventato degli scambi per lasciare un posto di over libero per far sì che mi dispiace tenerlo fuori se poi un giocatore ti dice di no e che lui e che alla luce del sole era il Cosenza avevamo messo su anche un doppio scambio prendendo un under andando a giocare Zuzzec in prestito cioè tutto per cercare di non sperperare e di non avere dei giocatori fuori che non è bello però se la risposta dice non accetto non vado c'era stata anche la Ternana non vado ahimè noi dobbiamo pensare al bene di Bari sarà più problema nella società che lo paga ci posso fare poco un ragazzo un bravo ragazzo che tecnicamente non ha mantenuto le aspettative però non è che possiamo pensare a quello che è stato dobbiamo pensare a quello che verrà e quello che verrà è essere sintetici e portare dei giocatori nel miglior modo possibile più velocemente adesso anche un nuovo allenatore questa è la realtà prego Abrescia una domanda al volo al Presidente Presidente la scelta di Iachini prima si parlava dell'investimento nell'ottica del famoso piano triennale che immagino si è confermato per provare a vincere l'anno prossimo sì assolutamente sì ed è anche proprio il motivo l'ho detto prima di questa programmaticità il suo contratto recita giugno 2025 proprio per permetterci di programmare e costruire un percorso ambizioso prego Ruscitto sì al direttore ho già posto prima la domanda quindi magari per questioni domande mi sono diciamo quelle giornate ovviamente per arrivare poi alla scelta di Iachini quindi con tutte le proposte insomma le opzioni che avete passato al vaglio no Presidente io vorrei chiederle la sensazione dall'esterno rispetto agli ultimi accadimenti al netto di un principio ovviamente che l'è anche oggi ha ricordato cioè l'autonomia l'indipendenza della sua gestione da quella ovviamente della parte partenopea della Filmauro è che ci sia una presenza che sappiamo anche mediaticamente quella di suo papà è sempre molto ingombrante ogni volta che parla anche oggi ci sono ultime dichiarazioni allora richiedo questo quanto tra virgolette visto che prima lei ha detto per me da figlio è complicato dissociarmi da quello che dice mio padre e quanto rende più complicata questa gestione e soprattutto il fatto che lui spesso ricordi il Bari deve essere venduto l'ha fatto anche in Arabia dopo la finale di Supercoppa entro tre anni tutto quello che è successo le dichiarazioni di ieri quanto evidentemente complicano la sua vita e soprattutto sul tema della multiproprietà le chiedo questo che è un ostacolo ovviamente sin dall'inizio della vostra gestione sto cercando ovviamente di esporre la domanda bene sapendo che abbiamo questioni di tempo mi avete fatto perdere il filo chiedo scusa sul tema della multiproprietà presidente le chiedo evidentemente anche rispetto agli investimenti che voi state facendo se in qualche modo sono vincolati anche a situazioni future che sono abbastanza aleatorie al netto del vostro pilastro che è quello della sostenibilità gestionale anzitutto sul discorso degli investimenti per la multiproprietà le cose eccetera vi ho spiegato in maniera precisa come operiamo che tipo di azienda siamo dove l'ambizione è di riuscire a investire e trovare le giuste risorse con quello che si riesce ad investire per arrivare ai risultati importanti è stato già fatto in passato lo continueremo a fare l'abbiamo continuato a fare quindi questo è il nostro modus operandi non c'entra nulla la multiproprietà non la multiproprietà per quanto riguarda se c'è qualcosa che può inficiare il mio lavoro nulla e ripeto come ho risposto anche prima perché quando per sei anni della tua vita cambi tutte le regole della tua vita per spostarti e vivere in un altro contesto e riportare in alto una squadra di calcio non ci sono effetti destabilizzanti pur effetti magari legati alla tua famiglia sono diciamo momenti complessi ma come ci sono quei momenti complessi poi io come ripeto questa mattina ho acceso la mia macchina e sono venuto qua perché non mi tiro indietro non mi tirerò mai indietro quello che ho costruito fino ad oggi non me lo faccio distruggere così all'improvviso per un frentendimento quindi sono qua e quindi non inficia proprio in niente di quello che dobbiamo fare a maggior ragione oggi presentiamo un nuovo allenatore se il direttore vuole rispondere sì Paolo ci sono stati diversi nomi è normale che in quelle situazioni direttamente a me gli allenatori hanno chiamato e amici degli allenatori praticamente si sono proposti tutti quelli erano sul mercato la scelta va fatta a 360 gradi per questo ho detto abbiamo perso anche un giorno in più perché o prendi un allenatore per questi quattro mesi ma nel momento in cui va a toccare uno Iachini di turno la proprietà deve assecondare e dire vogliamo fare questa ma questo è l'allenatore che non è che possiamo ricambiare a giugno ok economicamente per blasone e tutto e quindi siccome la proprietà è un un budget dico la verità fuori dai nostri parametri nel momento in cui la società mi dice Ciro se è quello giusto piuttosto aspettare a giugno avere una margherita più larga ma oggi diciamo la verità un po' di pensiero negativo l'abbiamo tutti quindi affrontare questo per un futuro più importante è la scelta dei caduti senza dubbi su Iachini che è un top per la categoria per questo vi ho detto ringrazio il presidente perché è un sacrificio grosso ma da qui siamo partiti per la costruzione di un Bari per il futuro non ci sono dubbi io chiedo al direttore sportivo in fase di presentazione di Marino aveva detto io affido la mia vita a mister Marino ovviamente sono frasi magari di circostanza le chiedo se ha pensato eventualmente da delle dimissioni se l'ha sfiorata oppure il suo primo pensiero dopo aver resonerato Marino è stato quello di raddrizzare la corsa insomma della banca Marco ma io ti interrompo perché non mi puoi dire una cosa del genere io non sono andato via a giugno dopo una finale e ti posso dire che avevo delle possibilità perché andare via in quella situazione forse sarebbe stata la cosa migliore per un direttore o anche per un allenatore e io no ho accettato sapendo che era un anno diverso e siccome io mi reputo il comandante perché qua io ci vivo tutti i giorni e i giocatori sono tutti scelti da me con il consenso del Presidente e con il supporto quotidiano del Presidente io non potevo mai abbandonare la barca perché scusate porca miseria sbagliare un allenatore e pensare alle dimissioni veramente siamo proprio ai limiti dei limiti quando arriviamo a fine anno vi posso garantire che una linea la tiriamo ma io sono responsabile di tutto anche nel male e quindi oggi siamo nel male l'abbandonare sarebbe stata ma poi nel male anche qui voglio precisare c'è sempre un male si dice stavo meglio quando stavo peggio cioè abbiamo delle possibilità diciamo oggettive di poter raggiungere sopra e anche sotto quindi siamo nel mezzo non è che noi siamo sotto il giornale e per rialzarci siamo abbiamo fatto degli errori ma sai il calcio è talmente strano che si può succedere di tutto e quindi io sono qui per non abbandonare la barca per arrivare alla fine e poi alla fine sono disponibile a tutto insieme alla mia proprietà ok ad oggi quello che posso chiedere diamo una mano a questo allenatore che è arrivato con tanto entusiasmo alla città che va bene tutte le problematiche che ci sono per il nostro Presidente che io personalmente dal mio mestiere auguro a tutti i direttori ad avere il Presidente perché i Presidenti nei momenti che c'è stato un po' di difficoltà che io venerdì sera chiamo e dico Presidente stanotte ci dobbiamo pensare un Presidente può pure dire allora adesso direttore un attimo da parte come purtroppo invece non abbiamo perso un attimo una frase che non è stata condivisa e lui anche nei momenti di difficoltà che questo mondo poi nei momenti di debolezza cercano di di aggredire la parte tecnica lui ha sempre rispettato le gerarchie e questa è la forza di questa squadra e anche la forza che abbiamo preso Iachini perché Iachini prima di venire come io ho preso le informazioni su di lui lui l'ha preso su di noi perché un allenatore senza il direttore senza una società seria non va da nessuna parte e quindi lui l'ha anche confermato che le scelte vanno fatte per determinate situazioni e qui c'è tutto per fare bene ci sbagliamo ci sbagliamo le responsabilità come è possibile non operare comunque in tre anni e non sbagliare qualcosa vuol dire che saremo degli scienziati scienziati non ci siamo ci mettiamo anima e corpo passione dedizione e voglia di emergere perché siamo gente che vogliamo andare sempre più avanti un abbraccio a tutti forza Bari e cerchiamo di stare uniti grazie